Come avevano promesso, separati, ma più uniti che mai. E sembra proprio che sia così. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si ritrovano sempre insieme, sia negli affari che nella vita familiare. I due ex condividono festeggiamenti affiancati al party di fine produzione di Ciao Darwin a Roma. Il presentatore 62enne e la produttrice 49enne mostrano grande sintonia e complicità. Il legame tra di loro non si è spezzato, anzi. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre insieme, tra affari e famiglia. I due ex condividono festeggiamenti al party di Ciao Darwin. È vero, è solo l'inizio. E, non da meno, al momento non ci sono terzi incomodi di in mezzo. È naturale chiedersi cosa accadrà quando uno dei due si innamorerà di qualcun altro. Ma, per ora, Paolo e Sonia, nonostante la separazione, hanno un'intesa straordinaria. Ridono, si divertono, scherzano, sono in perfetta sintonia al party. Il presentatore 62enne e la produttrice 49enne continuano a dimostrare grande intesa e il conduttore si lascia andare, taglia la torta con il regista e tutto il cast del programma che andrà in onda su Canale 5. Bonolis, con la sua solita ironia, cattura l'attenzione di tutti, parla con le ragazze e i ragazzi che lo circondano per il programma. Bruganelli è presente, riprende tutto o quasi, e poi condivide le immagini e i video nelle sue storie sui social. Nonostante la separazione, c'è una grande sintonia tra loro durante la festa a Roma. La torta celebrativa per la conclusione delle registrazioni del programma che andrà in onda su Canale 5 e i due continuano ad essere una famiglia. Per Sonia, come confessato a Vanity Fair nell'ormai celebre intervista con Paolo in cui ufficializzarono la loro separazione, Bonolis è diventato un amico, un confidente. Si mormora che lui, in realtà, abbia dovuto subire la decisione di mettere fine al matrimonio dopo quasi 26 anni. Sarebbe stata lei a volerlo terminare qui. Secondo le voci, l'ex volto di Bim Bum Bam avrebbe sofferto molto per questa situazione. Ma non si vedono lacrime in pubblico. Paolo balla sfrenato sulla pista da ballo d'ero dispiaciuto, ovviamente, ha sottolineato Paolo, ma non è pensabile che la vita degli altri debba necessariamente corrispondere, in ogni aspetto, alla tua. Se prende altre direzioni e altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona a cui vuoi bene. Non è stato facile accettarlo. A voi i commenti? Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.